Il Consiglio Comunale è stato convocato per la scadenza di legge del 30 novembre che impone agli enti locali di adottare l'assestamento generale di bilancio. Si riduce di 181 mila euro l'indebitamento del Comune di Arezzo per l'esercizio 2013. Il bilancio comunale può godere di alcuni trasferimenti statali previsti da recenti decreti ministeriali a titolo compensativo dei tagli operati negli anni passati e del minore gettito del Limo. Un decreto del 3 ottobre ha segnato circa 940 mila euro per il 2013 e circa 769 mila per il 2014. Un decreto del 27 settembre attribuito al Comune di Arezzo 2 milioni 570 mila 930 euro. Ulteriori 194 mila euro di trasferimenti vanno a integrare il Fondo di Solidarietà Comunale. Dall'esame dei versamenti IMO effettuati dai contribuenti dal primo giugno risulterebbe inoltre estimabile un maggiore gettito per l'esercizio in corso. Tale incremento andrà a rimpinguare il Fondo di Riserva. Dopo che la richiesta di sospensiva avanzata dal consigliere 5 Stelle Farsetti è stata respinta, la delibera è stata approvata con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti. Legati alla delibera di bilancio c'era anche la variazione del programma triennale dei lavori pubblici. Le principali variazioni riguardano l'aumento degli importi per gli interventi straordinari sugli immobili comunali da 200 a 260 mila euro e per il monitoraggio sismico degli edifici scolastici. Riduzione da 200 a 100 mila euro delle risorse per il monitoraggio dell'idoneità sismica degli edifici pubblici. La pratica seguente, una votazione a scrutinio segreto, è stata introdotta dall'assessore alla giostra del Saracino Romizzi. Sono state presentate, ha detto, le dimissioni dalla carica di magistrato di Giuseppe Caroti, un incarico svolto per poco tempo, le due giostre del 2013, ma sufficiente a dare ulteriori dimostrazioni della sua autorevolezza e correttezza. È stato surrogato da Carlo Cigna, proposto da Matteo Bracciali.